C'è un dipendente comunale tra le persone risultate positive al covid nella città di Sciacca e quanto si è appreso nelle ultime ore. Sono così scattate le procedure per risalire ai contatti avuti da questa persona e diversi soggetti sono già stati posti in isolamento in attesa di tampone. È stata contestualmente disposta la chiusura al pubblico di tutti gli uffici nonché la sanificazione di tutto il palazzo municipale. La maggior parte del personale comunale lavora in smart working e pertanto la situazione non desta particolare allarme o preoccupazione. Naturalmente è scattato anche lo screening limitato ai dipendenti che operano negli uffici. A livello provinciale sono 32 le persone risultate positive su 308 tamponi effettuati, 51 le guarigioni e anche nelle ultime 24 ore non c'è stato alcun decesso per covid in provincia di Agrigento. Sono i numeri contenuti nel bollettino sull'andamento epidemiologico diffuso ieri sera dall'azienda sanitaria provinciale. Rimane dunque sotto controllo la curva dei contagi in provincia ma anche la situazione negli ospedali. A Sciacca le persone contagiate sono 38, 42 a Ribera, 8 a Sambuca di Sicilia, 9 a Santa Margherita a Belice, 12 a Menfi, 10 a Montevago, 10 a Cattolica Eraclea, 11 a Calamonaci. A Menfi oggi è ripresa al Centro Civico Fondazione Inicon nell'attività di screening sulla popolazione scolastica destinata a studenti e docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Migliora la situazione dei contagi ad Agrigento che scende a 98 e anche a Licata dove le persone in trattamento adesso sono 76. 57 i casi a Favara, 54 a Ravanusa, 41 a Canicattì, 38 a Portempedocle, 28 a Campobello di Licata, 27 a Raffadali. Calano i ricoveri sia al San Giovanni di Dio dove adesso in regime ordinario ci sono 18 pazienti, sia al Giovanni Paolo II dove le persone ricoverate nel reparto Covid sono adesso 6. In variata rispetto al giorno precedente la situazione nelle terapie intensive con 4 pazienti ad Agrigento ed uno a Sciacca. Anche a livello regionale la situazione si mantiene stabile. Ieri sono stati 789 coloro che sono risultati positivi al Covid-19 in Sicilia. Il numero è venuto fuori dai 22.337 tamponi effettuati tra test rapidi e molecolari. Il tasso di positività è sceso al 3,5%. 1.233 le persone guarite e 24 i morti che hanno fatto salire a 3.603 il totale delle vittime dall'inizio della pandemia. Scendono ancora i ricoverati sia in terapia intensiva sia nei reparti Covid.